Professor Rubbia, la strada che l'ha portata al premio Nobel comincia a Pisa nel 1953 quando lei comincia il corso in fisica alla scuola normale. Ma è vero che ha rischiato di non cominciare mai quel corso? La mia famiglia avrebbe preferito che io facessi l'ingegnere, però io volevo fare il fisico, ora c'era un accordo secondo il quale se riuscivo a passare la scuola normale di Pisa sarei diventato fisico, se no sarei rimasto ingegnere. C'erano dieci persone nel concorso, io sono arrivato undicesimo e quindi ho perduto. Avendo perduto me ne sono andato a Milano, per fortuna una persona sconosciuta che mi piacere tra l'altro conoscere e vedere, che ha rinunciato a prendere la taura in fisica ha lasciato un posto di attesa libero e quindi io con tre mesi di ritardo sono stato trasportato da Milano, dal Politecnico di Milano, alla scuola normale di Pisa dove sono rimasto e mi sono divertito moltissimo. Quindi lei ha sempre avuto una passione per la fisica, per il nuovo, per la ricerca del nuovo, ha sempre avuto una grande curiosità. Direi che la scoperta del nuovo è la parola chiave in questo tipo di cosa perché tutto sommato essenzialmente è la novità che crea l'alternativa, è la novità che crea l'interesse, è la novità che fa funzionare il mondo. Non è ripetendo le cose che si sono fatte nel passato che uno continuerà nel futuro ad andare avanti nello stesso modo. Quindi l'innovazione, che poi è curiosità, perché fondamentalmente è curiosità, il desiderio di conoscere e di vedere. E questo qui è un meccanismo che effettivamente è sempre stato uno dei grandi motori dell'uomo. L'uomo non è andato sulla luna per la saggezza, è andato sulla luna per la curiosità. E quindi è chiaro ed evidente che queste sono cose che fanno parte dell'istinto umano, che sono veri per tutte le civilizzazioni e che non sono evitabili in nessun modo. È la natura umana quello di rispondere alla curiosità delle cose che lo circondano. Il suo maestro Marcello Conversi la definì il nuovo Fermi della fisica italiana. Che ricordo ha di questo suo grande maestro? Vuoi parlare di Fermi o vuoi parlare di Conversi? Che sarebbe vero capire le cose. Parliamo di Conversi. Beh, Conversi è stato per me una persona, anche un grande amico, oltre che un grande insegnante, nel senso che abbiamo passato una buona parte del lavoro insieme e abbiamo avuto molti interessi comuni, molti lavori comuni e così via. La transizione tra l'essere studente e essere colleghe è una transizione che in molti casi è difficile e complicata. Nel caso di Conversi è stata una cosa perfettamente normale, arbitraria, automatica e permettamente accettabile. Questa è una cosa importante, come l'evoluzione delle persone mantenga questo tipo di rapporto al di fuori dei cambiamenti di tempo, di condizioni e altro. Purtroppo Marcello ci ha lasciato molto presto, ha avuto un incidente cardiaco che lo ha portato rapidamente alla fine dei suoi giorni e questo è stato un grande peccato, sì, è stata una grave perdita. Dopo la laurea a Pisa nel 1957 e un anno di studi presso la Columbia University negli Stati Uniti, lei torna a Roma per affiancarsi a Marcello Conversi come suo assistente. In quegli anni cominciava la fisica delle particelle, stavate proprio cominciando a scriverne le prime pagine. Su cosa vertevano i vostri studi? Il mio passaggio per Roma è stato un passaggio estremamente breve. Pensavo che l'Europa fosse veramente il futuro, nel mio caso, della ricerca, che l'Europa aveva bisogno di rifarsi una pelle per quanto riguarda il futuro della scienza in generale, della fisica in particolare. Quindi per me il mio interesse, più che essere italo-italiano, era fondamentalmente europeo. Difatti io, dopo un breve passaggio attraverso l'Istituto di Fisica di Roma, dove ho fatto anche i miei corsi di lezioni per un anno, me ne sono andato e sono andato al CERN e sono tra le persone che hanno vissuto il CERN, la sua nascita, il suo inizio. Non dobbiamo dimenticare che tutti gli edifici che vediamo qui oggi non c'erano ancora quando siamo venuti, che non c'era neanche, che si andava a fare la caffettiria, il posto dove si mangia, era un ristorante vicino all'aviazione, vicino all'aeroporto di Ginevra e che l'Università di Ginevra ci offriva lo spazio, il tempo per poter lavorare in quanto si stava costruendo qualche cosa dal CERN fino all'inizio. Quindi io faccio parte di quel piccolo gruppo di persone a cui fanno parte, anche tra l'altro, diciamo, chiaramente, due altre persone che hanno perso il premio Nobel, tanto Van der Meer che Charpak, erano tutte e due persone che facevano parte di questo gruppo di pochissime persone che hanno veramente visto tutto il CERN fino alla nascita. Ed è proprio al CERN di Ginevra che si compie la sua probabilmente più grande avventura scientifica, quella che l'ha portata alla scoperta dei bosoni WZ0, appunto la prova dell'esistenza della quarta forza fondamentale della natura, la forza debole. È stata un'avventura forse irripetibile oggi perché lei riuscì a convincere il direttore generale del CERN di allora, John Adams, di modificare il programma di un acceleratore che era già partito, il super proton synchrotron, di trasformarlo in un collider con una tecnologia che era ancora agli albori. Ci racconti un po' questa avventura. Non è che Adams ha convinto me, solo io che ho convinto John Adams che la cosa era la cosa giusta da fare. Di fatto io a quel momento avevo cominciato a pensare che le collisioni tra protone e antiprotone erano una soluzione interessante del problema e la mia prima proposta è stata scritta per gli Stati Uniti, per l'America, perché pensavo che l'America fosse il paese del futuro. A quei tempi ero professore a Harvard, quindi avevo tutte le carte in regola per essere un insegnante e un ricercatore nel sistema americano che era al momento attuale il più avanzato per quanto riguarda la situazione. Di fatto la soluzione di fare questo esperimento negli Stati Uniti non ha funzionato, non ha funzionato per una serie di motivi anche di vario genere, poi soprattutto perché c'era una certa tendenza burocratica già che cresceva. mentre al CERN, visto che era un sistema relativamente nuovo e innovativo, soprattutto grazie a delle persone come Vanhove e Adams che avevano una visione di quello che doveva essere il futuro dell'esperimento, questa idea ha subito germinato in una soluzione possibile. Però non è una cosa che questi tipi di idee non si fanno senza una certa pressione, una certa fatica, un certo confronto con autorità diverse, c'era tutta una serie di esperienze alternative che si facevano, che si potevano fare per il CERN, anche se al momento attuale il CERN aveva a disposizione una quantità di fondi che erano abbastanza ragionevoli per fare un nuovo grande progetto. Quale fosse il nuovo grande progetto era una cosa discutibile, c'era Bjorn Vick che voleva fare un Electron Proton Machine, c'era Dariullà che voleva fare quello che si chiamava il Super ASR, un altro ASR Super Conducting e tutte queste cose venivano insieme e facevano parte di una diatriba che in fondo è stata una diatriba puramente scientifica e questo è molto importante, è stata puramente scientifica perché grazie alla situazione del momento del CERN gli argomenti di carattere politico non erano come potrebbero essere oggi, specialmente nel nostro paese. Fare una collisione tra due fasci, specie di protoni e antiprotoni, richiedeva un enorme sviluppo che tra l'altro aveva bisogno di un numero, tra l'altro molto limitato, molto piccolo, il numero di persone che hanno sviluppato questo progetto del Proton Antiproton Collider, di persone che veramente hanno dato la parte intelligente, intellettuale, inventiva, sono state al massimo una decina di persone, non erano mica tanti, anche se c'erano 3.000 persone, ci sono 10 persone, 8 persone che hanno avuto il 99,9% dei messaggi che poi si è sviluppato sotto forma di due passi, primo creare lo strumento e due con lo strumento fare la fisica e nel fare la fisica quello che era chiaro che noi volevamo sapere, cercare una risposta a una domanda ben specifica, molte volte uno fa la fisica senza sapere perché fanno le cose, le cose vengono fuori e si perde un po' a destra e a sinistra, però il argomento era molto chiaro, la scoperta di base era l'energia debole, l'energia weak interactions, avevano cominciato con Madame Curie che aveva scoperto il fenomeno e Becquerel, poi è passato attraverso Fermi che ha sviluppato una teoria che era abbastanza ragionale ma non andava bene, poi c'è stato quello che chiamiamo standard model che diceva che più o meno le cose si basavano in maniera diversa, basate su quark etc., però una cosa è una teoria, le teorie ce ne sono tante e l'altro l'esperimento, è stato veramente una delle volte in cui si vede finalmente come la filosofia naturale tra virgolette era basata soprattutto su esperimenti, è un discorso che solo la natura può decidere che il fisico accetta come un risultato che viene dall'esterno. Il CERN è la sua casa scientifica dal 1961, lei è però un personaggio unico al CERN perché oltre ad essere uno dei tre premi Nobel che il laboratorio ha generato, è stato anche suo direttore generale gettando le basi di LHC. Che cosa prova oggi nel momento in cui LHC sta funzionando, i protoni girano in questo momento proprio sotto i nostri piedi? Abbiamo invitato il nome, il nome LHC è stato sviluppato da noi, è stato invitato da me, è stato invitato da altre persone intorno a me e mi ricordo che c'era il nostro amico Giorgio Brianti che si diceva sempre che LHC non poteva essere utilizzato come nome perché vuole dire Lozano Hockey Club e questo era qualcosa molto più attraente all'uomo della strada di quanto poteva essere una macchina per collisionare protoni ad alta energia, specie a quei tempi, oggi le cose sono veramente molto diverse. Ma comunque noi abbiamo cominciato con un programma che era inferiore al programma americano, gli americani toccati sul vivo dal fatto che avevano fatto il protone, l'antiprotone e varie cose di questo genere avevano costruito quella cosa che si chiamava SSI, Super Colliding Super Collider, che era una macchina di grandissime dimensioni e anche molto più costosa e dipendente dal nostro caso, però in realtà questo sistema si è come dire tra virgolette sgonfiato e io quando sono andato dalla direzione generale ho lasciato essenzialmente alla comunità un LHC meno un SSI, in realtà l'LHC era il compromesso giusto, però non era facile farlo, questo ha portato un enorme cambiamento, un cambiamento in cui oggi la cooperazione con gli altri paesi del mondo, in particolare con gli Stati Uniti, con gli altri paesi, Giappone etc., è una cooperazione invece che una competizione e difatti l'LHC è stato, la creazione dell'LHC, la formazione del CERN nella ultima sua fase è stata veramente quello che ha trasformato il laboratorio del CERN da un laboratorio europeo, infatti CERN è Europa, a una situazione in cui il CERN è l'unico laboratorio, il laboratorio principale di tutto un campo di ricerca mondialmente, il che non è senza svantaggi, perché la competizione ha anche le sue qualità e i suoi benefici, io credo che questa idea di fare un unico laboratorio del mondo per fare una certa cosa è un rischio molto grande anche perché se c'è un unico modo di fare le cose non ci sono alternative, a meno che le alternative vengano dall'interno, ma dall'interno come abbiamo visto precedentemente le alternative sono generalmente difficili a portare avanti perché il conservatismo, perché il senso della continuazione del lavoro già fatto e della continuità prevale sull'innovazione. Un altro dei suoi grandi progetti di ricerca è proprio Icarus, un esperimento al Gran Sasso che sta raccogliendo in questo momento i suoi primi successi. Questa fisica delle astroparticelle, perché è importante? Esiste tutta una fisica che si sta sviluppando, che è quella che non utilizza acceleratori, ma che riconosce il fatto che i più grandi acceleratori non stanno su terra, ma stanno nel cosmos e che il cosmos è capace di dare condizioni sperimentali che sono largamente superiori a quelle che si possono ottenere con qualunque macchina acceleratrice che l'uomo è capace di inventare e di sviluppare. E quindi esistono queste due alternative tra quella che può essere la fisica fatta dall'uomo con un acceleratore e la fisica fatta con una strumentazione avanzatissima che domanda direttamente alla natura, al cosmo, la risposta alle questioni. Dovevamo dividere la scienza, quello che si può fare e si deve fare sul piano europeo e con il CERN com'è e com'era, è ovvio che fare una copia conforme al CERN sarebbe stato un grave errore e qualche paese l'ha fatto. La Germania ha costruito un acceleratore che essenzialmente era quasi un CERN, però c'è stato una grossa dualismo e difficoltà tra le cose, noi abbiamo capito che la fisica con gli acceleratori si deve fare il CERN, il CERN è il posto ideale per fare questo tipo di fisica, ma esiste una fisica che è uno meno la fisica degli acceleratori, quello che resta quando le elezioni sono finiti e per questo c'è una grande possibilità. Poche persone si ricordano che 20 anni fa, quando si è deciso di costruire l'esperimento del Gran Sasso, era un'innovazione straordinaria, perché si è riuscito a costruire all'interno di un laboratorio quello stesso tipo di sale sperimentali, di strumenti, di facilities, di ponti, di elettricità e di potenza e di dimensioni che sono quelle delle grandi esperienze che si facevano al CERN. Nel passato, precedentemente, gli esperimenti dei raggi Cosby erano dei piccolissimi esperimenti che si facevano in una piccola sala, in un piccolo recipiente di qualche metro cubo, per esempio al Gran Sasso o al Monte Bianco o al Fréjus, molte volte si è fatto in India, si faceva in India, si faceva in America Latina o si faceva anche e soprattutto nell'Africa del Sud, quindi erano dei laboratori, degli strumenti che non avevano in mano lo stesso tipo di tecnologia che era quella che il CERN e in generale gli acceleratori avevano permesso di sviluppare. L'Italia è stata la prima a capire che era importante utilizzare questa tecnologia anche nei campi dove l'acceleratore non c'era. Che differenza c'è fra la fisica fatta con gli acceleratori e questa fatta con l'acceleratore? Allora, fatemi finire ancora un certo punto perché vale la pena di ricordare, però oggi ci troviamo di fronte a una situazione estremamente interessante, per esempio con l'esperienza di Icarus, noi abbiamo una situazione in cui effettivamente facciamo un fascio di neutrini al CERN, quindi un acceleratore, invece di portarseli in casa e lavorarli al CERN, li facciamo piaggiare attraverso 730 km e li inviamo attraverso le Alpi, non dimentichiamo che le Alpi sono sempre stato un grande passo di sviluppo dall'Annibale a Napoleone, le Alpi erano importanti, noi facciamo il trasporto delle Alpi con dei neutrini che attraversano la padania a 20 km di profondità e poi lentamente, visto che la terra si ruota, vengono in superficie e sono concentrati in un fascio che vi è rivelato all'Aquila, quindi inviare un fascio di neutrini dal CERN fino a un esperimento che si trova nel mezzo dell'Italia non è una cosa da poco, una cosa che si può fare con i neutrini perché i neutrini hanno interazioni molto piccole, ma rappresentano uno sviluppo tecnologico estremamente importante e quindi oggi noi utilizziamo la fisica che stiamo facendo nel Gran Sasso anche, ma non solamente, anche per fare gli esperimenti in correlazione per sempre, quindi c'è un rapporto positivo di correlazione tra quello che si fa con gli acceleratori e quello che si fa senza acceleratori, non è che sono in contrasto, anzi si aiutano a vicenda e utilizzando i due si può fare ancora meglio. Noi siamo oggi davanti a una grandissima scoperta scientifica che fino ad oggi è stata una scoperta cosmologica che tra l'altro ha dato anche il premio Nobel due anni fa, che è quella che dice che essenzialmente esiste la materia oscura, la materia oscura essenzialmente viene dal fatto che per la prima volta si è capito di quanto pesa l'universo, la domanda è quanto pesa l'universo, l'universo pesa una certa quantità, però se noi guardiamo le componenti visibili dell'universo, le stelle, vediamo che le stelle sono circa il mezzo per cento, un per cento del totale. Se poi noi vediamo la materia adronica, la materia di cui siamo fatti, quelli che sono stati prodotti dalla creazione dell'iniziale, quello che si chiama il Big Bang Nuclear Synthesis che va sotto quel famoso nome dei primi tre minuti che per esempio Steve Weinberg ha così ben descritto, tre minuti dopo il Big Bang c'è stata la creazione di tutta la materia come la conosciamo noi oggi quando pensiamo di elio, idrogeno, carbonio, tutti i melenti che conosciamo, la tabella di Mendeley-Effner è stata sviluppata essenzialmente tre minuti prima del Big Bang, ma questa materia che per noi è tutto fino adesso, in realtà quando pesiamo l'universo scopriamo che è solo il 4 per cento della massa totale e quindi c'è il 96 per cento di materia che noi cosmologicamente vediamo esistere perché ha i suoi effetti gravitazionali che non fa parte di quello che noi abbiamo imparato essere la sorgente primordiale della materia come ce l'abbiamo spiegato, come l'abbiamo pensato e così via. Quindi c'è il 94 per cento di quello di cui è fatto l'universo e ancora tutto da costruire, quindi ci troviamo di fronte a una situazione assolutamente straordinaria in cui abbiamo solo il 4 per cento e mezzo che esiste e dico il 96, scusate ho detto il 94 ma di fatto il 96 e il 96 per cento è ancora tutto da scoprire, io mi domando se quando un ragazzo giovane che vuole entrare nella fisica sentendo che il 96 per cento della massa dell'universo e l'energia dell'universo sono ancora da mettere insieme, se non si sentirebbe eccitato, certo che si sentirebbe eccitato, come mi sentivo eccitato io quando parlavo delle particelle elementari, quindi vorrei dire che di fatto lo sviluppo della conoscenza innovativa, la sorpresa esiste e continua ed è fortissima purché ci siano quelle che la sanno sentire, la sanno ascoltare. Oltre al suo lavoro in fisica di frontiera nella ricerca pura, lei si è sempre interessato fin dai tempi della sua direzione generale, ma anche prima probabilmente, alle applicazioni alla società derivanti dalla tecnologia sviluppata per gli acceleratori di particelle e in questo modo lei ha sviluppato molte nuove idee, fra cui il nucleare sostenibile ad esempio, o il nuovo motore per andare su Marte, applicazioni mediche della fisica degli acceleratori e infine il nuovo solare. L'uomo è fondamentalmente Faber, quindi costruisce le cose e quindi come tale ci sono molte cose all'universo che oggi hanno bisogno di sviluppi e di innovazioni, lei ha menzionato alcune, per esempio il nostro grosso problema, un altro dei grandi problemi di oggi, il più grande problema di oggi è il fatto che abbiamo un grandissimo numero, che la popolazione del nostro pianeta sta aumentando rapidamente, ho detto ma lo voglio ripetere qui, che quando io sono nato, il numero di persone su terra era un terzo di quelle che sono oggi, da oggi, quando sono nato io fino ad oggi c'è stata una moltiplicazione del fattore 3 nel numero di persone sull'universo, ma l'energia utilizzata dall'universo è cresciuta come il quadrato del numero delle persone, ogni persona consuma più energia e quindi questo da un quadrato invece di un semplice numero e quindi noi sappiamo oggi che l'energia primaria prodotta di cui il pianeta paga prezzo oggi è 10 volte quella che era quando io sono nato e io mi sento in buon stato, quindi sono nato un certo numero di anni fa, ma certamente ancora qualche idea, qualche innovazione a portare avanti e quindi è chiaro che questo tipo di situazione è normale che uno si domandi ma dove stiamo andando nel futuro? Quelli che sono i bambini che sono nati oggi avranno 10 volte l'energia di quella di oggi e avremo una popolazione, tre volte la popolazione di oggi e questo famoso discorso di speciei, del Limit of Growth che è ben conosciuto, è stato discusso anche e soprattutto dall'Italia almeno un quarto di secolo fa, che continua a essere un problema importante e tutto questo problema è energia, quindi bisogna trovare nuove sorti di energia, che vuole dire aprire il problema del nucleare, nucleare vecchio verso nucleare nuovo, è chiaro che il nucleare ha avuto molti sviluppi, ma il nucleare di oggi è fondamentalmente quello di ieri, è fondamentalmente basato su idee che facevano parte di quello che Fermi aveva fatto negli anni 40, facevano parte della guerra fedda, facevano parte dei progetti di sviluppo del nucleare come arma piuttosto che come sorgenti di ricerca, è chiaro che tutti questi argomenti oggi sono profondamente cambiati e quindi se vogliamo continuare a utilizzare i nuclei, che mi sembra giusto, dovremmo anche cambiare quelle che sono regole del gioco, utilizzare un nucleare basato su elementi e su condizioni che sono fondamentalmente diversi da quelle che erano ieri. Quello che ci preoccupa del nucleare di ieri o di oggi sono tre cose, Hiroshima, il problema di Chernobyl e adesso Fukushima, anche lui ha diritto di essere il Casse 7 nella famiglia dei disastri e poi abbiamo anche il problema delle scorie radioattive dove c'è una quantità incredibile di sostanze, queste tre cose a mio parere nel modo d'oggi non sono più gestibili, nello stesso modo che erano gestibili ai tempi d'oro della guerra fredda e quindi è chiaro, è evidente che devono essere cambiati, ma è compito lo scienziato quello di andare avanti e migliorare le cose, è vero che gli aerei negli anni 40 e 50 facevano paura a tutti, mio padre non sarebbe mai andato su un aereo, ma adesso ci andiamo tutti, perché? Perché abbiamo accettato, modificato la tecnologia in modo da rendere l'aereo super sicuro, dobbiamo rendere anche il nucleare super sicuro. Ma lei che ha fatto? Io ho fatto delle proposte, faccio delle discussioni, ma in generale mi sembra un po' una cosa molto poco sentita da quelli che sono i problemi e cose di questo genere, non credo, io credo che finirò a scrivere un libro e ci fermeremo lì. Poi altre questioni, lo spazio, lo spazio è anche questo un grande problema, io credo che la nostra frontiera non è oggi più andare sul cima, 100 anni fa era andare al Polo Nord, 100 anni fa, un quarto di secolo fa era andare sulla Luna, oggi quello che a noi interessa come il futuro della conoscenza umana è la possibilità di capire come è fatto Marte, Marte non è un sasso, Marte è un enorme pianeta che contiene un sacco di informazioni, tante cose che esistono e che devono essere conosciute etc. Andare su Marte vuole dire andare e viaggiare per tempi molto lunghi e al limite di quello che è la capacità dei combustibili attuali. Von Braun aveva scritto un lavoro su Marte, aveva descritto queste cose, ma era totalmente inaccettabile. È chiaro che a mio parere non è possibile andare su Marte senza un nucleare, è solo con i nuclei che ci possono fare. Il nucleare se può essere considerato come un rischio, come un pericolo su Terra, quando devi andare su Marte e devi vivere lontano a 146 milioni di chilometri dalla Terra e andare e tornare per anni, la presenza del nucleare con la forza e la potenza energetica del nucleare rappresenta un asset, non un liability, rappresenta un vantaggio, non uno svantaggio. Quindi è chiaro, è evidente che ci sono delle cose che l'uomo dovrà fare, non potremmo mandare delle scatolette con le telecamere che fanno vedere i sassolini alla destra e sinistra, bisogna metterci il piede su questa cosa, perché l'uomo ha il suo valore anche in questo senso. Questo è stato importante nel caso della Luna, per esempio, quando si è dato l'uomo è tutta un'altra storia. E quindi a quel momento lì è chiaro ed evidente che qualcuno nel futuro andrà anche su Marte, non sarà oggi perché abbiamo i problemi finanziari, quello o quell'altro, quello che vuoi volere, ma fondamentalmente l'uomo ha il diritto e il dovere di andare anche un giorno su Marte. Bisogna capire che per andare su Marte dobbiamo utilizzare una forma di nucleare adeguato e quindi quello che ho sviluppato è un nuovo sistema nucleare, ben diverso da quello che dicevamo precedentemente e che ha la caratteristica di poter funzionare per accelerare e ridurre il tempo di viaggio da Marte a Terra e soprattutto quello di stabilire la partenza quando vogliamo e il ritorno quando vogliamo, perché nelle tecnologie utilizzate oggi, quelle tecnologie basate su razzi tipo von Braun, si parte un certo giorno, se manchi il giorno devi aspettare 5 anni per trovare l'altra finestra di occasione e quindi a quel punto lì è chiaro ed evidente che non è possibile sopravvivere in queste condizioni, quindi è chiaro ed evidente che il vantaggio di un'energia nucleare è quello di permettere di partire quando uno vuole, tornare quando uno vuole, viaggiare non su anni ma su mesi e questa è un'enorme differenza, sono convinto che qualcuno che farà queste cose arriverà a fare anche questo tipo di situazione. La terza cosa che viene fuori che mi sembra importante sono le energie rinnovabili. Oggi sappiamo che le energie rinnovabili sono un grande futuro, sappiamo che le energie rinnovabili si stanno sviluppando un po' dappertutto e che l'energia dal sole, sia diretto, cioè il solare, che indiretto il vento, la pioggia, quindi l'hydro, eccetera, sono la grande risposta del futuro perché le energie fossili sono limitate del tempo e oggi ogni anno bruciamo un milione di anni di creatività di fossili del pianeta, quindi noi abbiamo 200-200 milioni di anni durante i quali il pianeta ha creato i fossili e abbiamo da 50-100-150 anni durante i quali possiamo utilizzare i fossili e poi è finita e noi portiamo avanti e senza energia facile e a basso costo non ci sarà soluzione, non c'è soluzione, non c'è possibilità alternativa e il nucleare non può risolvere tutto perché non dimentichiamo che il nucleare per esempio non ci dà il petrolio, il nucleare non serve a trasportare un'automobile, non può girare con il nucleare perché il nucleare produce soltanto elettricità e l'elettricità è soltanto un terzo dell'energia totale, che facciamo gli altri due terzi? Che facciamo in tutta la chimica associata alle conoscenze di petrolio, gas naturali, dobbiamo trovare alternative e per trovare alternative dobbiamo sviluppare queste cose, questo è il motivo per cui ho sviluppato un solare termodinamico che è caratterizzato dal fatto che permette di stoccare l'energia solare, nello stesso modo in cui si stocca l'acqua della diga, in maniera tale che possiamo far partire un sistema solare termodinamico anche di notte quando non c'è il sole, perché il calore che il sole ha accumulato durante la giornata può essere messo a disposizione dell'utilizzatore quando ce n'è bisogno e anche in particolare quando fa buio. Quindi questo tipo di soluzioni sono veramente incredibilmente importanti e ci sono tutta una serie di questioni che vengono fuori. La terza questione che vengono fuori è per esempio al CERN abbiamo una superconduttività che ci permette di comunicare, di andare a grande distanza e che fa funzionare l'LHC, la stessa superconduttività può permettere di trasportare delle grandi quantità di energia elettrica a grandissime distanze e così via. Ci sono migliaia di possibilità di soluzioni di scoperte, stanno tutti lì che hanno bisogno di essere avanzati. Se noi non riusciamo a risolvere queste condizioni estremamente delicate e difficili che sono rappresentate dall'esplosione della popolazione, dal peso crescente dell'ambiente sul pianeta, innovando, 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 non riusciremo mai a uscire da questa cosa, finiremo in una situazione in cui a certo punto ci sarà il collasso. È chiaro ed evidente che oggi il pianeta non è in grado di sopravvivere senza un'energia abbondante e a basso costo e quando i fossili cominceranno non a scarseggiare, ma quando la domanda dei fossili supererà l'offerta dei fossili, che esalveranno nei prossimi anni, i prezzi dei fossili arriveranno a un livello tale che effettivamente la gente non potrà più permettersi il modo di comprarsi l'automobile, che le compagnie aeree non saranno in grado e di viaggiare sul sistema. Qual è il sostituto del petrolio nell'industria aerea? Ve lo potete dire, se non c'è petrolio cosa ci mettiamo? Ci mettiamo l'idrogeno? Ma scazziamo. Ci mettiamo che cosa? E voglio dire, a quel punto lì è chiaro che dobbiamo trovare un'altra soluzione ed è questo che la scienza nella sua forma più originale e più inventiva ha il compito e il dovere di svilupparlo. Oggi dove casca l'asino, se mi permettete la parola, è quando si trasforma questa cosa in risultati pratici, perché nel politico, nel mass media hanno capito ancora completamente la gravità del problema rappresentato dalla mancanza di energia. Una persona vulcanica come lei sicuramente non si accontenta dei progetti che ha fatto e che sono stati coronati dal successo, moltissimi e di quelli che sono in corso in questo momento, ma sicuramente ha già qualcosa in mente per il futuro. Che cosa bolle in pentola per il suo futuro, per i prossimi dieci anni? Non lo so cosa bollere nel futuro, io personalmente faccio il famoso discorso che diceva il futuro non esiste, il passato non esiste, siamo solo nel presente, quel famoso discorso che non so chi aveva fatto, che mi sembra perfettamente corretto. Tutto lo sviluppo del futuro non si fa creando uno scollamento tra quello che è vero oggi e quello che sta vero domani, parlare di un domani che non è la continuazione diretta di oggi, che non è legato oggi in maniera corretta, che non è parte e conseguenza dell'oggi, non è un futuro gestibile. Molte delle persone hanno tendenza di cancellare l'oggi per parlare del futuro e quindi non esiste questo contatto tra la presenza, le soluzioni del futuro e le necessità del presente e quindi è chiaro ed evidente che è sempre una politica che deve essere fatta a piccoli passi, però piccoli passi innovativi, ma deve essere fatta tenendo conto del fatto della realtà di oggi, un futuro senza la realtà del presente non esiste. Grazie professor Rubbia per questa interessantissima e vivace conversazione. Grazie a tutti.